Buonasera a tutti, oggi è nato il Consiglio Comunale a Firenze, il Consiglio di quartiere 1, sempre a Firenze, nel Consiglio Comunale di Empoli un nuovo gruppo politico denominato Centro. Cos'è il Centro? Chi siamo noi? Siamo persone moderate, conservatori, liberali, popolari che sentono la necessità di ritrovarsi attorno ad un Centro Destra moderato. Naturalmente è una scelta che rimane fortemente all'interno del Centro Destra, crediamo che la scelta del governo Draghi sia quella che sta portando fuori l'Italia da questo contesto drammatico, siamo assolutamente favorevoli all'ingresso del Partito Popolare Europeo, siamo europeisti ma per l'Europa a sostegno delle persone e non viceversa, siamo convinti che sia fondamentale l'investimento sulle infrastrutture, sulla scuola, sulla sanità. Da oggi continueremo a fare il nostro lavoro, il nostro impegno anche in Palazzo Vecchio con uno spirito ancora più determinato e desidero di fare del bene per i cittadini. Grazie.